Identificavano le prede in cittadini anziani, ne apprendevano nomi e cognomi dai campanelli e poi al citofano circostanziavano scuse valide per entrare in casa e derubare gli stessi anziani. Un modus operandi scoperto dagli uomini della squadra mobile che hanno monitorato due giovani donne girovagare per il centro di Pesaro mettendo in atto comportamenti e movimenti ben noti alle forze dell'ordine per circuire anziani al fine di derubarli. E così venerdì pomeriggio è scattata la trappola. Le due donne hanno effettuato il blitz in un condominio del centro e la polizia all'uscita era pronta ad aspettarle. Controllata l'auto le donne con una rapida manovra si sono date alla fuga tamponando anche una macchina parcheggiata. I poliziotti però sono comunque riusciti a risalire sia al mezzo trovato abbandonato in un parcheggio sia alle donne trovate ancora con la refurtiva addosso composta in monili d'oro pronti da restituire alla vittima. Per le donne e entrambe madri è scattato l'arresto e la revoca del reddito di cittadinanza. Un furto invece del tutto analogo a quello commesso a gennaio alla chiesa di Osterianova è avvenuto nei giorni scorsi anche alla chiesa di Santa Maria Annunziata di Gabiccemare. In entrambi i casi uno sconosciuto si è introdotto nel luogo di culto e dopo aver forzato il lucchetto della cassetta delle offerte si è appropriato di circa 120 euro. Le immagini dello scasso attraverso la videosorveglianza hanno lasciato pochi dubbi una volta messa a confronto con i due episodi. L'autore a parere degli investigatori era lo stesso ovvero un cittadino argentino di nuovo denunciato. Era invece entrato in azione al supermercato Kona del tavolo di Gabicce un borseggiatore che il 7 gennaio aveva sottratto dalla borsa di una sessantenne il portafogli contenente 160 euro e tutti i documenti. Ad incastrare il presunto malfattore sono stati i carabinieri di Gabicce che a inizio febbraio sono transitati invece a Pesaro davanti a un altro supermercato e hanno riconosciuto l'autore del borseggio risalente un mese prima scattando così la denuncia in stato di libertà.